Ciao a tutti ragazzi sono Nico, benvenuti in questo mio nuovissimo video oggi come da titolo andremo a vedere come sbloccare due assegnazioni disponibili con il premium queste due assegnazioni sono sbloccabili solamente dal battle log perché infatti dobbiamo inserire dei codici, delle password che ci permettono di visualizzare i requisiti e il premium queste due assegnazioni sono come possiamo vedere tra le assegnazioni sotto la categoria oro sono prospettiva phantom che ci permette di sbloccare questa piastrina e recluta phantom che ci permette di sbloccare questa mimetica allora prospettiva phantom è disponibile con China Rising mentre recluta phantom con Naval Strike adesso come vedete io posso già visualizzare sia i requisiti sia il premium sia per la prima sia per la seconda assegnazione invece chi non ha ancora fatto i passaggi che vedremo fra poco oltre allo step di giocare una sola volta come premium ne avrà anche un altro con un quadratino vuoto e un punto interrogativo e non potranno appunto visualizzare né i requisiti né il premium quindi adesso andiamo a vedere come sbloccare più che l'assegnazione vera e propria più come sbloccare i requisiti che poi a loro volta ci permetteranno di sbloccare il premio vero e proprio allora dobbiamo andare qua in classifiche e poi dobbiamo scorrere la pagina fino in fondo qui in basso piccolino anche se non si vede molto c'è un'iconcina con due teschi che sarebbero il programma phantom noi ci clicchiamo e viene fuori una specie di console tutta nera adesso come vedete a me compaiono più scritte sicuramente rispetto a voi perché ho già sbloccato sia prospettiva phantom sia recluta phantom accedendo appunto al programma phantom voi da qua dovete mettere dove c'è scritto enter passcode a me non c'è più scritto e non fa neanche più scrivere perché ormai appunto ho sbloccato tutto sono entrato nel programma phantom invece a voi ci sarà scritto enter passcode dovete scrivere per prospettiva phantom tutto attaccato come vedete poi qua sopra nel video bump in the night tutto attaccato fatto invio e dopo una serie di scritte appunto vi dirà che avete sbloccato l'assegnazione prospettiva phantom invece per recluta phantom dovete scrivere epic spazio dream spazio words come vedete sempre qua in sovriscrizione nel video fate di nuovo invio e appunto alla fine di tutte le scritte vi dirà che avete sbloccato anche l'assegnazione recluta phantom dopodichè siete entrati con successo in questo programma phantom potete cliccare qua nella X appunto se andate a vedere tra le assegnazioni sempre tra quelle ore appunto vedrete che non c'è più il punto interrogativo nessuna delle due e potete visualizzare i requisiti e il premium allora per prospettiva phantom dobbiamo ottenere 200 uccisioni con i fucili d'assalto 200 con i carri armati e fare un colpo alla testa da da minimo 300 metri invece per recluta dobbiamo ottenere 200 uccisioni con pistole 20 uccisioni con con i caccia e poi due nastri fucile a pompa in un turno ovvero in una partita queste due assegnazioni se non l'ho già detto prima ve lo dico anche adesso sono delle assegnazioni appunto quasi misteriose segrete che senza questi questi codici non possono essere non possono essere visualizzate quindi spero che questo video vi sia stato utile più che piaciuto perché non ho fatto vedere nulla di di bello di interessante comunque inoltre non è che andiamo a sbloccare qualcosa di così utile però visto che non l'avevo mai notato poi facendo una rapida ricerca sul web tra assegnazioni particolari ho tratto queste due e ho visto anche che c'erano pochi video quindi ho detto perché non portare appunto un video su come sbloccare visto che come sbloccare è qualcosa di come sbloccare è qualcosa di particolarmente strano ok ragazzi come sempre vi ricordo di mettere mi piace di iscrivervi al canale di commentare ci si becca in un prossimo video e quindi vi saluto ciao a tutti ragazzi ciao 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 ciao